Estensione dell'anca, concentrata. Una gamba sollevata dal suolo e completamente distesa, come a formare una linea orizzontale. Sollevare la gamba di circa 40 gradi e contemporaneamente contrarre i muscoli del gluteo. Ritornate in posizione di partenza, portando la gamba in linea orizzontale con il bacino. Ritornate in posizione di partenza, portando la gamba in linea orizzontale.